Sì, sono qui! Quindi, vabbè, ora vediamo perché sì. Perché la robina... Sì, la robina... L'attitudine interessante era comunque che non hai sempre i colori, tutto a presso, quindi... Sì, la robina... Allora, tu cominciati a scegliere una compagna... La mia voce ha subito un'alterazione, perché eravamo passati sotto... Lo pò piressa cura? Pele dotare! Allora, a tutti! Allora, a tutti i nostri amici. Asparta privilegiare un कio... la licenza senza licenza la licenza senza licenza la 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 licenza